salve oggi racconteremo una storia ma non una storia classica di eroi o di guerrieri la nostra storia è ambientata in quarantena lui è ludovico ludovico è un ragazzo ordinario va a scuola come tutti e si diverte col suo gruppo di amici nessuno lo direbbe a prima vista ma ludovico ha un sogno sogna di fare lo storico e suo nonno buba lo sa bene infatti gli racconta spesso storie dei suoi tempi d'oro nella vecchia dalmine purtroppo con il virus in circolazione nonno buba non può più raccontare le sue storie al giovane ludo allora decide di inviargli un album di foto della sua gioventù io ho un po' un po' un po' un po' un po' un po' e un po' che si vanno Grazie a tutti. Ai ragazzi viene subito un'idea. Quanto sarebbe bello modernizzare quelle immagini. Sì, insomma, adattarle al futuro. Purtroppo non si può uscire, ma Ludovico non è uno che si perde d'animo tanto facilmente. E grazie ad un virtual tour online riesce a rivedere Dalmine anche senza uscire di casa. I ragazzi allora si mettono subito all'opera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pronto? Ciao, ciao nonno. Guarda che ti ho inviato sulla mail. È una cosa speciale. Guardaci e poi dimmi se ti piace o no, dai. Va bene? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.